chissà se alla fine la salsa guacamole è piaciuta al nostro messicano non lo sapremo mai ma sicuramente avrà apprezzato le nachos con farina di ceci poi improvvisate non avevamo quella di mais ma assolutamente buone specialmente con il dolce state a vedere grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.